Teramo Vive ha perso il suo assessore, Valdo di Molaventura, adesso è lecito chiedersi se resterà in maggioranza. Diciamo che i cittadini che ci hanno dato mandato per amministrare questa città, i 2.111 cittadini che ci hanno dato questa possibilità, ce l'hanno data per amministrare in questa amministrazione, in questa maggioranza, quindi Teramo Vive rimane in maggioranza e di volta in volta farà un appoggio in base ai provvedimenti che ci saranno dati in Commissione e in Consiglio Comunale. Se li teneremo corretti li voteremo, altrimenti cercheremo il modo di cambiarli. Ci sarà appunto un appoggio condizionato in merito agli atti che ci verranno poi dati in Commissioni e Consigli Comunali. Ripeto, se saranno ritenuti validi per noi li voteremo, altrimenti chiederemo di modificarli. Lei ha detto che ci sono altre liste che hanno una rappresentanza in Giunta con voti più o meno simili a quello che avete raccolto voi un anno fa. Certo, i nostri elettori ci chiedono il perché delle liste con più o meno i voti nostri, meno voti o poco più voti, siamo lì, abbiano due rappresentanti in Consiglio. Fermo restando che è assolutamente un discorso di poltroni in quanto siamo stati i primi nella prima composizione dell'Aggiunta a cedere delle deleghe per far chiudere il cerchio al nostro sindaco. Ha detto anche che si aspettava un altro trattamento dal primo cittadino. Sicuramente pensavo che la lista sarebbe stata più rispettata, però ecco, le scelte ormai sono state fatte e è quello che penso l'ho detto. Sì, sinceramente mi dispiace per Michele perché è anche un bravo ragazzo, però quando si sta in un gruppo ci sono delle regole. Se le regole si rispettano si rimane all'interno del gruppo e se le regole non si rispettano poi si andrà da qualche altra parte. Fermo restando che Michele avrebbe avuto dire quello che voleva all'interno della riunione che avevamo indetto, però ha preferito uscire prima attaccando il gruppo stesso e il gruppo non ci sta agli attacchi. Valdo di Buonaventura secondo lei ha pagato questa candidatura da indipendente con azione? Ma io so soltanto che Valdo di Buonaventura ha preso più di 2.000 voti, 1.800 voti a Teramo per una lista che concorreva con il centrosinistra in appoggio del candidato d'amico. Grazie.